Tutto sommato, credo di poter essere soddisfatto del progetto Scirocco. Certamente il nome ricorda una Scirocco che io ho fatto 40 anni fa. L'impressione della Scirocco sia di gioventù che di azione. Direi che non sarebbe una presunzione dire che riconosco quello che io avevo fatto a suo tempo. Una forma che deve attrarre, deve avere sempre qualcosa di capriccioso. Aristotele diceva che l'artista è quello che non copia la natura. La imita nel senso che fa qualcosa di analogo. L'auto ha un messaggio che va oltre alle necessità. È quello di comunicare chi sono. La nuova Scirocco è una bellissima macchina. Lei parla con un creativo che vorrebbe averla fatta lui questa macchina.